I libri, la sfera armillare, lo scheletrino d'argento, la pendola e la scacchiera, oggetti della quotidianità cari a Leopardi, prendono vita grazie alla sensibilità dell'artista Antonio Greco nella mostra Io Giacomo, inaugurata nella stanza del Novecento di Casa Leopardi a Recanati. Uno spazio espositivo vicino alla biblioteca della dimora leopardiana, luogo centrale della formazione del poeta recanatese. La mostra, nata da un incontro tra Antonio Greco, artista siracusano, e Vanni Leopardi, prunipote di Giacomo. Partendo da quegli oggetti, indaga i temi esistenziali che hanno caratterizzato la vita e la poetica leopardiana. Lo scorrere del tempo, lo sdoppiamento fra inconscio e natura, il conflitto fra l'esistere terreno di tutte le umane cose e il potere vivificante dell'immaginazione. E a racchiudere il forte simbolismo del pensiero di Leopardi è il quadro La siepe di carta. Perché in un certo senso ritengo che la vera siepe di Giacomo sia stata la sua biblioteca e che attraverso l'immaginazione sia riuscito ad andare oltre. Una mostra che il Conte Vanni ha desiderato fortemente. È un progetto che nasce da mio padre. Papà ha incontrato Antonio Greco casualmente, che era qui in visita, e ne è nata una grande amicizia. Hanno sempre parlato di fare questa mostra e già avevano in mente i quadri, il soggetto. Cioè papà i quadri l'ha visti. Sono così contenta di sapere e di aver soddisfatto un grande desiderio di mio padre. La mostra Io Giacomo sarà visitabile a Palazzo Leopardi tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, dal 19 aprile al 30 giugno 2024.